Giulio Cavalli, scrittore, attore, regista, politico. Da cosa viene, da dove viene l'idea del teatro civile? Teatro civile, a parte il fatto che dovrebbe esistere un teatro incivile per esistere un teatro civile. E poi in realtà da 500 anni in questo paese l'abbiamo inventato noi italiani. Ci sono i giullari che vanno nelle piazze e rischiano a raccontare che il re è nudo. Erano prima i giullari, poi le maschere della comedia dell'arte, quindi direi che è una tradizione tutta italiana. L'arte come strumento di denuncia, di passione civile, ma l'arte diventa anche una minaccia per te e per la tua famiglia. Come vive un attore e come accetta di vivere sotto scorta? Normalmente, come altre 670 persone in Italia che vivono sotto tutela e molto spesso ci mettiamo a chiedere a scrittori o adattori cosa significa vivere sotto scorta. Non l'abbiamo mai chiesto a Giancarlo Caselli che l'ha fatto per 40 anni. Ha una famiglia meravigliosa e sorriso sulle labbra. Tieni conto, 500 anni fa i giullari li decapitavano e quindi vuol dire che abbiamo già fatto un salto di qualità. E poi c'è un paese che si stupisce per gli uomini di parola sotto scorta e sembra che si sia dimenticato che si sono morti i preti per mano della mafia. Quindi direi che anche questa è una storia che si ripete abbastanza ciclica. Cosa unisce e cosa distingue Giancarlo Siani da Roberto Saviano? Non lo so. Giancarlo Siani è un giornalista. Roberto è uno scrittore e quindi penso che facciano due lavori diversi. Tu ti senti un po' più Saviano o Siani? Nessuno dei due, guarda. Io mi sento come il giullare pieno di pezze cinquecentesco in mezzo alla piazza. Oggi la Sicilia si scontra con una società civile diversa. Dopo Falcone e Borsellino la Sicilia è cambiata, è cresciuta. Qual è invece la società civile che la mafia incontra in Lombardia? Purtroppo dal punto di vista dell'antimafia direi che siamo messi molto peggio che al sud. E quindi mentre in Sicilia si sta lavorando con calma per costruire una cultura della legalità o forse della giustizia più consapevole, noi stiamo affrontando un'emergenza. Quindi stiamo cercando di difenderci nel modo migliore. Però ci sono delle generazioni che sono soprattutto secondo me le più giovani che hanno tutto il tempo per cominciare un processo molto più calmo, molto più organico di educazione. A un ventennio dalla scomparsa di Falcone, alla luce di quanto lei denuncia, cosa dice rispetto alla famosa frase di Falcone che comunque la mafia è un fenomeno che ha un inizio e avrà una fine? Io sono molto ottimista. Poi gli allecchini in realtà devono essere ottimisti per natura. Io credo che in questo paese in realtà comunque in questi ultimi vent'anni si sono raggiunti dei risultati che erano impensabili. Penso ai ragazzi di Adiopizzo, penso anche ai lavori che si stanno facendo nelle scuole, che si sta facendo nei comitati civici. Ovvio che comunque mentre noi cerchiamo di affilare le armi per fare antimafia, la mafia direi che ovviamente continua nella sua evoluzione e quindi oggi non è più la mafia che bussa alle porte della politica, ma è la politica che bussa alla porta della mafia. E quindi forse dovremmo cominciare a combattere un po' di più anche la mala politica insieme alla criminalità organizzata. Spesso sentiamo dire di una regione che è un'isola felice. A chi conviene dire che una regione è un'isola felice? Allora, ai collusi sicuramente e poi ai negazionisti quelli un po' per ignoranza. Però c'è una frase molto bella secondo me di Hilda Boccassini dopo l'operazione Infinito. Il magistrato Boccassini diceva che ormai siamo in un momento in cui l'ignoranza non è più ammissibile e che l'indifferenza non è più sopportabile. E quindi io sono dell'idea che a questo punto si cominci a non sopportare più tutti questi politici che giocano su questo equivoco di presunta non sapere. Noi abbiamo delle persone che sono chiamate e delegate ad amministrare un paese che devono sapere chi incontrano, devono sapere con chi parlano, devono sapere qual è la storia criminale della comunità che rappresentano e devono fare in modo che si torni a non credere che sia solo la magistratura perché la magistratura va a individuare le colpe, la società civile e la politica va a individuare le inopportunità che sono due cose diverse. Il teatro, il giornalismo sono strumenti, il web sono strumenti che aiutano più che altro ad una cultura, ad un approccio culturale alla legalità. Ma cosa ci vorrebbe? Che ognuno facesse il proprio lavoro, lo dice la Costituzione. L'articolo 4 della Costituzione dice che ogni italiano ha il dovere con la propria funzione e con la propria professione di concorrere alla crescita materiale e spirituale del proprio paese. Quindi che gli attori facciano gli attori consapevoli, gli scrittori allo stesso modo ma anche i capi degli uffici tecnici, giornalisti, le mamme, le insegnanti e i figli. Si fa abbastanza per la lotta alla mafia in Italia? Guarda, dopo che si è riusciti a compiere degli atti legislativi negli ultimi anni che sono quelli che hanno dato il via libera alla criminalità organizzata direi proprio di no. Secondo me c'è un distacco enorme tra quello che la gente vorrebbe provare nel proprio piccolo e poi a cascata da delle follie legislative che annullano anni di impegno e di lavoro. Quanto è grande il fenomeno della mafia in Lombardia? Dicono il 4% del consenso elettorale che vuol dire che superano la soglia di sbarramento di un partito però sono l'unico partito appena sotto il 4% che è riuscito ad eleggere degli assessori all'interno del Consiglio regionale quindi sicuramente sanno usare i loro voti molto meglio degli onesti.